Sardegna, isola ospitale al centro del Mediterraneo, dove è facile sentirsi a proprio agio. Con i suoi 24.000 km quadrati, l'isola è un continente a sé. Un mondo che attacca per la ricchezza delle tradizioni e la varietà dei paesaggi. Il visitatore non ha che da scegliere se perdersi nell'entroterra, caratterizzato dai profumi della macchia mediterranea, seguendo i sentieri del baghi, o se approfittare del clima, mite tutto l'anno, per esplorare i 1900 km di costa. Grazie ad una terra abbracciata dal sole per 365 giorni all'anno, è possibile praticare ogni tipo di sport, equitazione, trekking, mountain bike, vela, kite surf e naturalmente... Golf Arrivare in Sardegna è facile. I tre aeroporti internazionali, Cagliari, Olvia, Alghero, garantiscono i collegamenti con la penisola italiana, con le principali città europee e le destinazioni intercontinentali, attraverso voli diretti o via hub. Per un soggiorno lungo o per un weekend, la Sardegna è la scelta ideale per vivere un'esperienza indimenticabile. In questo splendido scenario si inserisce il sistema golfistico isolano. Sono tre i distretti turistici attrezzati per far vivere spettacolari ed emozionanti percorsi a 18 e 9 buche. Il Sud Sardegna, lungo il grande perimetro dello scenografico Golfo degli Angeli. Il Centro Sardegna, nello splendido paesaggio della zona di Oristano, caratterizzato dal sistema di stagni e lagune. Il Nord Sardegna, nella famosa cornice della Costa Smeralda. Pevero Golf Club Progettato nel 1967 ed inaugurato nel 1972, sorge a breve distanza dalla baia Cala di Volpe, in un paesaggio di estrema bellezza paesaggistica nel cuore della Costa Smeralda. Il Pevero Golf Club è facilmente raggiungibile dall'Italia e dall'estero grazie ai numerosi collegamenti aerei con l'aeroporto di Olvia. Campo da 18 buche, per un par 72, realizzate dal celebre architetto Robert Trent Jones. Percorso difficile, disegnato dalla geografia naturale del terreno, dove spesso il vento rende ancora più ardua la sfida. Quello del Pevero è un percorso golfistico di grande pregio che sviluppa un tracciato di oltre 6 chilometri e mette a dura prova anche i migliori giocatori. Indimenticabile la vista dalla clubhouse sul golfo del Pevero e di Cala di Volpe. Isarenas Golf & Country Club Il campo di Isarenas, estremamente tecnico e tortuoso, è stato disegnato dall'architetto Robert von Hegg all'interno di una rigogliosa pineta di 700 ettari. Il percorso di 18 buche, par 72, si sviluppa per un totale di 6.300 metri, lungo il quale ogni buca è incastonata in una cornice naturale composta di pini e ginepri che degradano fino alla splendida spiaggia. Il circolo di Isarenas, situato a pochi chilometri da Oristano, è facilmente raggiungibile sia dal nord che dal sud dell'isola, percorrendo la superstrada. Numerosi i riconoscimenti per questo 18 buche, giudicato dagli esperti, uno tra i 20 più bei percorsi italiani. Di grande rilevanza turistica, la prestigiosa struttura alberghiera presente all'interno della pineta. Un lussuoso hotel a 5 stelle che rende unica la vacanza ad Isarenas. Ismolas Golf Club Nella costa sud-occidentale della Sardegna, a soli 40 minuti da Cagliari, troviamo una delle mete più conosciute ed apprezzate dal circuito internazionale del golf. Ismolas Il club, fondato nel 1975, permette agli amanti di questa disciplina di cimentarsi su due diversi percorsi. Il Championship Course da 18 buche, progettato da Piero Mancinelli, e il Yellow Course da 9 buche, disegnato da Franco Piras. Il percorso da campionato si sviluppa su circa 6.400 metri, con 18 buche par 72, estremamente tecniche ed impegnative. Il 9 buche Executive, stretto ed ondulato, è un campo di gara assai intrigante. Il circolo ha ospitato per ben 4 volte l'Open d'Italia. Nel futuro di Ismolas è già previsto un nuovo 18 buche, firmato da Gary Player, che unitamente ad una rinnovata offerta alberghiera e al favorevole microclima della zona, renderanno Ismolas una delle mete più ambite nel bacino del Mediterraneo. Tanka Village Golf Club è la più recente e nuova realtà del panorama golfistico sardo. Incastonato tra le bianche spiagge di Villa Simius, a soli 40 chilometri da Cagliari, il campo da golf fa parte del resort turistico del Tanka Village. Il percorso di 5.450 metri PAR 71 si inerpica e discende lungo la collina di Villa Simius mettendo a dura prova l'abilità e la resistenza anche dei golfisti più preparati. Panorami suggestivi di rara bellezza accompagnano i giocatori e richiamano il loro sguardo verso l'isola dei Cavoli e l'area marina protetta. Un percorso da affrontare con attenzione. Occorre tecnica, precisione e concentrazione. I tre must necessari per affrontare con il giusto spirito una grande sfida. Sadanka Golf Club A pochi chilometri da Cagliari incontriamo il più giovane nove buche sardo. È Sadanka. Un campo tecnico di grande impegno dove è più facile perdere che guadagnare la virgola del sudato handicap. Ed è proprio questo che ne fa un banco di prova stimolante anche per palati fini. Il percorso misura 2.903 metri par 36. Si snoda lungo una serie di lievi saliscendi ed indurazioni caratteristiche del territorio di Sant'Isidoro in frazione di Quartus Sant'Elena. La precisione delle traiettorie deve essere la carta in più per scendere sotto il par. La presenza di molti fuori limite e soprattutto di ostacoli d'acqua rendono ancora più delicato conquistare uno score sufficiente. Golf Club Puntaldia Sulla costa orientale del nord Sardegna scopriamo Puntaldia. Nove buche tutte delicatissime che non mancheranno di sorprendere per la spettacolarità tecnica che imprimono al gioco. Per questo il campo di Puntaldia è l'ideale sia per allenamenti e competizioni amichevoli sia per piccoli tornei che promettono grandi emozioni. E' questo il biglietto da visita di una struttura fra le più intriganti e moderne della Sardegna a pochi chilometri da Sant'Eodoro e da Olvia. Il percorso di 1800 metri di lunghezza par 30 permette di giocare a due passi dal mare riebendosi gli occhi dei colori del paesaggio e della vegetazione circostante. E' inoltre possibile rilassarsi nella confortevole Club House che occupa un'ala del resort dominante il campo da golf. Il sistema golfistico in Sardegna può contare su numerose altre strutture affiliate alla Federazione Italiana Golf che completano un'ottima offerta. Ercole Cellino ad Assemi Porto San Paolo ad Olvia Sassari Golf nella città di Sassari Silis Golf Club ad Oristano Operano in Sardegna anche tre campi pitch and path il Kia Golf Club nel sud-ovest dell'isola Borgo di Campagna vicino ad Olvia e Alghero Golf Club nella costa nord-ovest. Il Sardegna Golf System ti aspetta per condividere i grandi momenti di golf divertimento e tanto relax. Grazie a tutti. Grazie a tutti.